Musica Sovere Mannelli si conferma piccola capitale culturale italiana ospitando Domenico Dara, uno dei più promettenti e bravi scrittori del nostro paese. Domenico Dara è calabrese ma questo significa poco rispetto alla qualità della sua scrittura alla capacità della sua invenzione. Domenico Dara è un narratore vero, un autore colto che bisogna conoscere e meditare a fondo. Nei suoi testi si legge in filigrana il rapporto tra caso e destino. Dove penderà la bilancia? Non lo sappiamo perché i libri veri, come sostiene, non danno risposte ma pongono soltanto domande.